Uè! Non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e tutti gli aggiornamenti che giorno per giorno vengono fatti anche nei file di gioco quindi non necessariamente pubblici. Siamo in un periodo un pochettino di stallo c'è stata questa patch che non è stata praticamente ufficializzata dove hanno tolto il Fortnite, MERS, hanno messo la fiocina, hanno fatto degli aggiustamenti ma in realtà fino a settimana prossima non ci sarà nulla di eccezionale a parte ovviamente lo shop a votazione di ieri questo video è registrato prima dei risultati quindi incrocio le dita spero che abbiano fatto vincere l'albero il Bush Ranger in inglese e vi dico anche perché infatti il video di oggi come primo titolo dice proprio shoppa il ranger si ragazzi perché shoppando il ranger codice XIUDERONE mi raccomando oltre a supportare me e va bene farete un gesto meraviglioso ve lo dirò fra pochissimo però vedremo anche un glitch sembrerebbe non bannabile perché comunque non è niente di esagerato che però vi permetterà di pescare ovunque pesci infiniti quindi potervi salvare sempre le chiappette anche se per caso non avete vicino un corso d'acqua e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite prima comunque volevo ringraziare come sempre tutti i ragazzi che mi passano a salutare in live su Twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per passare un pochettino di tempo con me e con Fortnite e ovviamente grazie a tutti quelli che vogliono invece supportarmi con il codice creator XIUDERONE mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima comunque la domandina io ve la devo fare ve l'ho fatta anche ieri grazie mille per avermi risposto in tantissimi nei commenti ma quella di oggi è veramente molto molto easy ve l'avevo già fatta su Instagram ma te per chi hai votato? io ho votato prima di sapere che fosse una cosa molto più profonda una votazione del genere per il Bush Ranger quindi è bellissimo l'alberello voglio vederlo in game non credo che possa sostituire la mia skin da arena però somiglia molto a un ciaspuglio anche se è un alberello quindi ci sta voi, tu, chi hai votato? scrivimelo qua sotto nei commenti mi raccomando ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento e non poteva che essere quello relativo appunto al Bush Ranger questa immagine che state vedendo alla destra del vostro schermo è in realtà se non ricordo male postata direttamente da Epic Games a quanto mi risulta pubblicamente e ufficialmente questa è la prima volta che Epic Games si muove per il sociale tra virgolette cosa sto dicendo? perché appunto il titolo diceva shoppa la skin Bush Ranger? perché Epic Games ha dichiarato che tutto il ricavato derivante dagli acquisti di questa skin quindi tutti i V-Bucks verranno riconvertiti in dollari americani e ovviamente e verranno ovviamente in dollari americani e verranno donati all'associazione di MrBeast che è MrBeast per chi non lo conosce MrBeast è uno youtuber che fa numeri spaziali parliamo di milioni di visual nel giro di poche ore è cresciuto in questi anni veramente in una maniera esorbitante e ultimamente si sta muovendo sia con argomenti simpatici che con argomenti molto molto seri in questo caso questa collaborazione di Fortnite permetterà all'associazione di MrBeast di piantare 20 milioni di alberi in giro per il pianeta quindi ragazzi lodevole sicuramente come cosa un applauso ci sta tutto shoppate shoppate questa skin ragazzi perché anche voi potete quindi contribuire fare un piccolo gesto che comunque è molto molto importante di certo per il futuro e andiamo avanti con il prossimo argomento ve ne avevo parlato proprio all'inizio il mega nuovo glitch nuovo mica tanto perché a me lo hanno detto 4-5 giorni fa pensavo lo sapeste ma magari alcuni non ne sono al corrente ho anche uno spezzone video in cosa consiste il glitch in poche parole se avete una canna da pesca potete in qualsiasi punto della mappa mettervi a pescare cialo cioè proprio siete sull'erba pescata non voglio farvi perdere tanto tempo voglio farvi vedere invece una clip vediamo se riesco a prenderla al volo eccola qua infatti guardiamola insieme davvero molto molto facile basta solo essere dotati non è un mio spezzone di gameplay in modo che ci evitiamo qualsiasi problema dovrebbe essere dovesse esserci guardate per terra con in mano la canna da pesca e molto scialli vi mettete dove caspita vi pare a pescare come vedete in questo momento il tizio ha pescato 18 colpi piccoli ma adesso ad esempio si mette qua guarda per terra bello fresco come una rosa e tira su un pesce che dà 25 ovviamente è come se pescate nell'acqua quindi potrebbe risalirvi armi potrebbe risalirvi i flopper potrebbe risalirvi il pesce prelibato come caspita il prelibapesce e tutte cose ragazzi mi raccomando un po' d'attenzione perché non è bannabile perché vabbè è un bug di gioco è una cagatina però mi raccomando state attenti a non farlo troppo in evidenza e andiamo avanti con il prossimo argomento ma mi fa venire mi dispi perché mi dispiace raga non voglio ridere perché non voglio guardalo è dilaniato dal dolore raga e lo posso capire il signor Jarvis abbiamo degli aggiornamenti sapete tutti quello che è successo il permaban uno degli come si dice delle prese di posizione più pesanti di questi anni di Epic Games quindi sul bannare addirittura l'IP di chi ha utilizzato hack sicuramente lo fa con persone sconosciute ma Jarvis è diventato ovviamente il portavoce di questa cosa che Epic Games ha fatto ci sono stati streamer di tutto il mondo che hanno chiesto a Epic Games di togliere questo permaban si è esposto addirittura ninja che ha detto mi sembra un po' esagerato bannare totalmente l'IP di Jarvis o comunque di chi utilizza in questo modo le hack considerando che lui l'ha fatto con un secondo account ma arriva il comunicato stampa ufficiale da parte di un portavoce di Epic Games che dice zero tolerance quindi non c'è nessuna tolleranza da parte di Epic Games per la decisione presa il che vuol dire che Jarvis o cambia casa o si sogna di giocare a Fortnite molti diranno tanto crea un altro account no gli hanno bannato l'IP vuol dire che sia che tu cambi il computer sia che tu cambi la connessione sia che tu cambi quello che ti pare non può farlo perché finché rimarrà in quella casa l'indirizzo IP verrà è bannato da Epic Games quindi non può accedere a Fortnite con nessun account non può neanche utilizzare un VPN quindi mascherare l'indirizzo IP perché il sistema anti cheat di Fortnite blocca automaticamente qualsiasi connessione interna con VPN quindi con IP mascherato che rimbalza in un po' di parti del mondo quindi ci dispiace ovviamente per Jarvis ripeto sono a favore del ban perché è giusto bannare chi utilizza hack quindi Epic Games però se fate questo fatelo veramente con tutti e andiamo avanti con l'ultimo argomento siamo arrivati alla fine di nuovo in chiusura il Minty Axe ragazzi è stato disponibile per un brevissimo periodo quindi si parla di una manciata di ore da GameStop in Italia ovviamente sto parlando molti di voi mi hanno mandato su Instagram le fotografie con i vostri acquisti portachiavi figurine action figures e il relativo codice ma c'è questo sito GameStop Zing credo che sia sempre una succursale di GameStop online non so e dirvi di cui lingua si parli perché il kunden non so che cosa caspita siano ma come vedete se fate un acquisto online vi viene anche dato un codice del Minty Axe provate a dargli un'occhiata e controllare se possono essere spediti in Italia questi acquisti se per caso non foste riusciti ad ottenere il piccone e a tutti i casi ne voleste uno potete comunque investire una quindicina di euro e portarvi a casa un codice al 100% io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 su Twitch ciao 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 ciao